Settimo congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, siamo in compagnia di Annalisa Chirico, dirigente del Partito Radicale e soprattutto diciamo anche scrittrice di questo nuovo libro che è Condannati Preventivi, le manette facili di uno stato fuori legge, facciamolo vedere per i nostri amici web ascoltatori. Diciamo subito che Annalisa è anche scrittrice per Panorama e per il giornale, giusto? Sì. Annalisa io volevo farti come prima domanda inerente proprio al libro una frase che ho visto e che mi ha colpito molto, il suicidio come unica via di uscita dal carcere? Beh ce lo dicono i numeri, siamo già a 60 suicidi dall'inizio dell'anno, il ritmo è quello di un suicidio ogni 5 giorni, nelle carceri italiane evidentemente le condizioni disumane che ripugnano la dignità umana e a cui sono costretti a sopravvivere i detenuti sono talvolta poi l'elemento diciamo di non ritorno. Annalisa tu nel tuo intervento fatto giusto adesso parlavi di inadempienze relative al caso Cucchi, almeno questo è quello che è stato dichiarato diciamo dalla stampa e quindi dai magistrati, ma non si potrebbe parlare, cioè loro hanno addirittura parlato di malnutrizione, è possibile la malnutrizione con le immagini, con tutto quello che c'è almeno questo dopo tre anni di inchieste. Ma io credo che il caso Cucchi sia proprio l'emblema dell'impazzimento della giustizia italiana e dell'ipocrisia, ormai si è davvero alla farsa, come dice l'area Cucchi certamente questa perizia è un passo avanti ma è una perizia che non convince perché ora far passare, dapprima si è scelto di far passare Cucchi come il tossicodipendente morto appunto per la droga, adesso lo si fa passare come morto per malnutrizione e quindi per inadempienza medica, le foto che coraggiosamente la famiglia pubblicò a poche ore dalla morte parlano chiare e sono imprese nella memoria di ciascuno di noi, il corpo e il volto evidentemente tumefati dalle percosse che Stefano Cucchi subì mentre era in custodia cautelare perché era appunto nelle mani dello Stato, evidentemente queste rimangono appunto, sono diciamo la prova del fatto che alcuni pezzi dello Stato proteggono altri pezzi dello Stato e quindi ancora di più bisogna sostenere la battaglia che l'area Cucchi e i suoi familiari stanno conducendo. I radicali parlano da sempre di riforma della giustizia, pensi che in vista insomma di una riforma della giustizia anche leggi che implementano diciamo l'ingresso in carcere come la Bossi Fini e la Fini Giovanardi debbano essere io direi eliminate se non addirittura tolte per disincentivare insomma. Allora l'amnistia è appunto in questo senso una riforma strutturale perché oltre a liberare le scrivanie dei magistrati e a svuotare, a ridurre con la popolazione carceraria l'amnistia comporta una serie di depenalizzazioni, amnistia significa estinguere appunto il reato e non soltanto la pena quindi sicuramente delle leggi carcerogene come la Bossi Fini sull'immigrazione alla Fini Giovanardi sulle droghe leggere sono evidentemente delle leggi che andrebbero riformate. Io voglio dire però che il 40% della popolazione di detenuti italiani è in carcerazione preventiva e che sicuramente oggi in Italia noi abbiamo una completa metamorfosi di questo strumento di cautela processuale che è divenuto di fatto un'anticipazione della pena nei confronti di presunti innocenti e in alcuni casi un vero e proprio mezzo per ristorcere confessioni e per esercitare una pressione intimidatoria sulla persona indagata o imputata sicuramente una riforma che limiti l'arbitrio e la discrezionalità della valutazione dei magistrati oggi è necessaria perché davvero dobbiamo ritornare alle norme le quali appunto prevedono che il carcere preventivo, il carcere senza una condanna sia l'eccezione dell'eccezione quindi per esempio limitare la carcerazione preventiva ai soli reati di sangue, mafia e terrorismo farebbe fare già un grande passo avanti al nostro ordinamento e libererebbe tante migliaia di persone. Attualmente quelli in carcerazione preventiva sono circa 27 mila e dai dati del Ministero della Giustizia sappiamo che la metà sarà dichiarata innocente. Annalisa, un'ultima domanda per concludere. Nel tuo libro praticamente dici che parli che la giustizia in questo caso ci sono casi normali di persone comuni e persone anche note quindi non c'è una distinzione vera e propria a livello culturale di persone incarcerate? No, posso dire che da questo punto di vista la carcerazione preventiva funziona come una livella visto che siamo a Napoli, cioè davvero senza distinzione di classe può colpire tutti, può colpire un famoso manifesto della campagna radicale sulla scorta della storia di Enzo Tortoraira può colpire anche te. E' proprio questo il senso, può colpire il parlamentare Alfonso Papa e può colpire la badante romena Adriana. Perfetto, ringraziamo ancora Annalisa Chirico e vi consigliamo di comprare il libro Condannati preventivi che è edito da Rubertino. Per prevenire la carcerazione preventiva della... Calcio, ringraziamo ancora Annalisa Chirico e vi consiglio di accettare la carcerazione Grazie a tutti.